salve a tutti e con questo video concludiamo il percorso quaresimale e triduo pasquale quindi domani sabato santo e lascio a voi di fare una riflessione personale per cui non ci sarà il video del sabato ma ci rivedremo domenica di pasqua come di consuetudine mi riallaccio al video precedente facendo una breve sintesi il legame che c'è tra la cena del signore descritta dai sinottici e la lavanda dei piedi scritta dal vangelo secondo giovanni si rifà a ciò che ha fatto gesù nell'ultima cena ogni gesto ogni parola ogni azione che fa gesù persino il respiro di gesù rappresenta l'istituzione del canone per la consacrazione del pane e del vino nel suo corpo e nel suo sangue costituisce il canone con cui gli apostoli e successivamente con i padri della chiesa per citarne uno l'apologia di san giustino fino ai tempi nostri consacreranno l'eucarestia i giovedì santo che abbiamo celebrato ieri vengono costituiti i sacerdoti è il giorno dei sacerdoti la festa dei sacerdoti quindi la lavanda dei piedi è un rituale che appartiene alla celebrazione eucaristica la lavanda dei piedi è un rituale che viene ripetuto a tutte le messe di tutti i giorni dell'anno quando c'è lo scambio di pace il parroco scambia la pace con l'assemblea e come se lava i piedi all'assemblea e a sua volta l'assemblea scambia la pace tra di loro quindi è come se ognuno lavarsi i piedi ad ognuno ecco perché nello scambio di pace non ci deve essere rancore gelosia invidia rivalità pettegolezzo e cose di questo tipo passiamo ora al venerdì santo nel venerdì santo c'è tutta la passione di Gesù è un giorno di digiuno e di astinenza perché dobbiamo comprendere quanto è costata a dio la nostra salvezza cosa dice il profeta esaia sulla passione dice così ecco il mio servo avrà successo sarà innalzato venerato onorato grandemente come molti si stupino di lui tanto era trasfigurato per essere d'uomo il suo aspetto è diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo queste ultime parole poi ponzo pilato le ripeterà quando presenterà gesù ai suoi carnefici ecce omo ecco l'uomo isaia usa tre verbi in particolare che riassumono un po quello che rappresenta oggi il venerdì santo e dice sarà innalzato onorato e venerato san paolo dirà della croce sapienza per i giusti e stoltezza per i pagani qua c'è qualcosa che non torna come fa una croce strumento di tortura e di morte a essere salvezza bene i quali seguaci la passione rappresenta un combattimento dio contro il diavolo una sorta di corpo a corpo possiamo dire che questo combattimento gesù lo fa già nel deserto nei 40 giorni trascorsi nel deserto e cosa dirà il diavolo a gesù gli dirà bene ci vediamo nell'ultima ora ci vediamo nell'ultima ora ma questa volta il combattimento si fa più serio abbiamo un ring dio contro satana da un lato la croce che rappresenta la morte e dall'altro abbiamo il croce fisso che rappresenta la vita sapete chi vince vince la vita e quando vince la vita quando gesù farà vedere a tutti il segno dei chiodi sulle mani vivo vivo in carne e ossa sembra di essere in uno di quei film di fantascienza dove uno viene ucciso e poi si rialza come se niente fosse successo la morte possiamo dire che a gesù non gli ha fatto niente alcuni santi hanno avuto il privilegio di di portare sul loro corpo il segno della passione come padre pio come san francesco e posso dire che l'esperienza della croce l'hanno vissuta anche i martiri e vi devo dire che io ho un po di invidia di questi uomini santi che hanno affrontato e vinto contro il diavolo e io spero di essere degno di affrontare questo combattimento proprio come fa un guerriero spirituale l'uomo può uccidere il corpo ma non può uccidere l'anima neanche il diavolo è in grado di uccidere l'anima e si limita tutt'al più a seviziare e torturare l'anima nei patimenti dell'inferno dio non uccide niente e nessuno neanche un virus che per dio ha tutto il diritto di fare la sua esistenza pensate quando è grande il nostro dio neanche un virus benché modificato dall'uomo o meglio dal diavolo è intaccato dalla morte e noi vogliamo più di un virus e siamo tutti vivi possiamo dire che siamo i superstiti allora cari amici oggi bisogna contemplare la vita che entra nel mondo tramite la morte e vi invito a leggere l'inno di questi giorni che dice fletti i tuoi rami sull'umanità tu che sei stato adornato col sangue del salvatore poi dice ancora un albero ha portato la morte l'albero della conoscenza del bene e del male di adamo ed eva è un altro albero ha portato la vita l'albero della croce e poi c'è un altro dinno che dice con aceto chiudi sputi insulti lance un mite corpo viene perforato e il sangue che ne scaturisce come un fiume lava l'umanità dal peccato bene potete meditare sul pangelingua oppure sul l'ex l'ex mordoc ti mistico oppure sul precemum omnes cernui e tanti altri inni che meritano di essere contemplati in questo giorno santo e con questo video è tutto è un arrivederci al prossimo video